E apriamo con questo grafico nella giornata di oggi perché è il grafico della regina delle cripto che con alcuni siluroni avvenuti nella scorsa settimana cerca e continua diciamo e cerca di avvicinarsi alla resistenza di 4000 dollari e tra le altre cose vi faccio vedere anche l'impatto di questa forza di ETH sulla dominance di Bitcoin, tolte le stablecoin, guardate come nella settimana scorsa ha perso dominance Bitcoin proprio a causa del rialzo di Ethereum Nuova sfida quindi in atto per quanto riguarda le criptovalute tra il re e la regina delle cripto, questa volta Ethereum ce la farà, potrà recuperare un po' del tempo perso quello che avevamo visto per esempio nel grafico Ethereum Bitcoin che era un grafico che sta soffrendo veramente da più di due anni ed è vicino al breakout del canale discendente che da settembre del 2022 non è mai stato rotto, cioè questo canale discendente che state vedendo Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi, sono di nuovo in viaggio, sarò fuori per un po' di tempo e noi ci vedremo comunque sia on the face quando sarà possibile sia ovviamente faremo i vari recap Tra le altre cose ragazzi volevo ricordarvi che giovedì 30 e venerdì 31 sarà alla Blockchain Week Room quindi se siete lì fatemi sapere, quindi ci vediamo ovviamente e ci salutiamo dal vivo ragazzi mi raccomando sarò tra l'altro anche in uno speech il 31 pomeriggio, intorno alle 4 del pomeriggio Bene detto questo, iniziamo una giornata di oggi con una semplice affermazione, la questione legata al calendario economico c'è la festa della giornata della memoria negli Stati Uniti, perciò mercati americani chiusi nella giornata di oggi quindi istituzionali a casa, movimenti che stiamo vedendo probabilmente non sono molto validi quindi ci vorrà la giornata di domani per avere più informazioni Fatto sta che comunque la continuazione di questo trend rialzista è iniziato nella giornata del 20 di maggio lunedì scorso quando in pratica è stata aumentata la probabilità dell'ETF di Ethereum che poi è stato approvato vi ricordo che ancora non ci sono negoziazioni per quanto riguarda l'ETF di ETH quindi non sappiamo in effetti se al momento Ethereum sta prezzando correttamente l'immissione dei nuovi fondi che arriveranno oppure i sell, i dump che magari potrebbero arrivare se Grayscale fa la stessa cosa che aveva fatto con Bitcoin c'è da dire, iniziamo oggi ovviamente ragazzi da Ethereum, c'è da dire che da un punto di vista di analisi tecnica l'impatto ecco di un asset che sale così velocemente e si riposiziona vicino al suo massimo relativo di questo periodo è solitamente un segnale di estrema forza al di là della questione legata agli ETF che chiaramente se dovessero andare come Bitcoin modificano in maniera sostanziale quello che sta facendo Ethereum e che farà Ethereum probabilmente nei prossimi mesi ma sostanzialmente anche da un punto di vista tecnico, di analisi tecnica questo è un segnale di forza anche se non è stato rotto il massimo ma non è, diciamo è più una questione di quando più che se perché di solito gli asset che hanno questo rimbalzo fatto in questo modo si avvicinano a una zona di massimo, ci incischiano un po' è vero perché magari c'è sempre la questione della resistenza di noturna psicologica potrebbe anche decidere insomma di fare una leggera flessione appunto dopo l'emissione dell'ETF però di solito con questa velocità e questa forza poi breccano il livello di resistenza quindi a livello anche di analisi tecnica oserei dire che a tutte le carte regole e TH per fare nuovi massimi relativi in maniera abbastanza veloce e avvicinarsi ai 4.800 dollari quindi quasi 5.000 dollari facendo i nuovi massimi storici a quel punto quindi avvicinandosi ai massimi storici l'ultima volta li aveva toccati intorno a novembre del 2021 tra le altre cose la ciclica su Ethereum sancisce che dal minimo del 14 di maggio è iniziato un nuovo ciclo trimestrale con probabilità anche una semestrale per quanto riguarda ETH che dovrebbe aver chiuso il suo semestrale proprio a maggio 14 maggio 2024 e da qui anche la questione ciclica è molto chiara siamo in sostanza a 14 giorni al di là di una chiusura magari di un ciclo mensile che potrebbe avvenire anche intorno ai 30 quindi un po' di debolezza magari fra 2-3 giorni qualcosa del genere la verità è che poi ci sono un sacco di giorni disponibili per fare nuovi massimi quindi ciclicamente siamo assolutamente in condizioni di avvicinarci ai massimi storici quindi ETH da un punto di vista di analisi fondamentale l'arrivo degli ETF non può che essere un segnale di estrema forza per la regina delle cripto da un punto di vista di analisi tecnica il rimbalzo avvenuto è un segnale di forza importante nell'avvicinamento a questo livello di resistenza da un punto di vista di analisi ciclica siamo in un secondo semestrale di Ethereum quindi sicuramente un nuovo trimestrale e questo è indice ancora una volta di forza che potrebbe continuare con molta tranquillità anche poi nei mesi a venire quindi tutte le carte giocano la possibilità di questo breakout che ripeto potrebbe avvenire dopo magari una fase di leggero decumulo io ho un po' il dubbio da questo punto di vista perché una fase di rallentamento dei prezzi di ETH forse da questo momento in poi sarebbe percepita come un'occasione di acquisto di solito i mercati non danno pasti gratis e questa cosa è molto semplice è vero siamo a metà di una struttura ciclica che potrebbe essere un mensile però ragazzi ripeto un ribasso di ETH che potrebbe tranquillamente arrivare anche intorno ai 3004 secondo me sarebbe giustificabile solo da dei sell off che potrebbero arrivare dalle questioni grayscale come fu per Bitcoin dopo l'inizio delle negoziazioni degli ETF prima non c'è spazio di questa cosa perché è troppo facile ve lo dico in maniera molto semplice e qui sarebbe veramente un bancomat l'ho già ripetuto nei vecchi video vediamo se succede insomma poi ne prenderemo atto però dal mio punto di vista questo grafico ha molte più probabilità di andare a fare nuovi massimi prima proprio andando a evitare che magari molti che non sono saliti ancora sul carro vadano a salire appunto sul carro solo una questione legata alla fondamentale quindi solo un sell off dovuto alle vendite l'uscita degli ETF di grayscale per un ripossizionamento potrebbe invece spingere i prezzi verso il basso dal punto di vista tecnico non mi aspetto niente al momento non ci sono segnali di bassisti neanche l'ombra e ciclicamente siamo ancora al 14esimo giorno del mensile che significherebbe che c'è spazio ragazzi ancora tranquillamente per salire quindi non c'è soluzione ora sicuramente bisognerà accumulare anche TH io al momento sono ancora in stand by perché il mio grafico di riferimento su Ethereum è questo qui un grafico di riferimento molto importante perché a differenza di quello che sembra ancora non ha invertito il trend né da un punto di vista di analisi tecnica né ciclica c'è da dire che un rialzo in questo contesto ciclico cioè dopo la chiusura di un 126 giorni quindi un semestrale molto corto così forte così di impatto è significativo quindi al di là di questa zona di forza con il cambio Ethereum Bitcoin non possiamo andare se qui siamo in un ciclo precedente cioè significa che se qui siamo ancora nel precedente ciclo così come è stato strutturato e deve andare a chiudere ribassista cioè significa che Bitcoin ritroverà nuova forza rispetto ad ETH questi massimi sono arrivati oltre qui non si può andare perché siamo già in eccesso secondo me e l'avvicinamento già al livello di resistenza 0,06061 per me presuppone che qui è stato troncato un altro ciclo e si è iniziato un ciclo probabilmente annuale nuovo di Ethereum Bitcoin e questo era proprio quello che teoricamente stavamo aspettando da giugno del 2022 quindi sono passati ragazzi due anni due anni di attesa per questa fase qui occhi puntati quindi anche su questa cosa io personalmente la sto tenendo in considerazione non vi nascondo però che nulla vieta a Bitcoin di andare a spingere ulteriormente anche perché c'è una questione ciclica di Bitcoin che potrebbe far sì che il re delle cripto riacquisti forza anche perché superata una struttura di questa resistenza sulla questione dei massimi Bitcoin avrebbe la price discovery quindi pista spianata e può recuperare con grande tranquillità forza relativa tra le altre cose vi faccio vedere la presenza del classico testa a spalle che si sta andando a creare proprio in questo momento un testa a spalle che è così creato è molto molto indicativo di forza questo significa che il breakout dovesse avvenire dei 73-74 mila dollari dopo il costrutto che è andato a realizzare da marzo in poi indicherebbe quantomeno secondo quello che è il target di questa figura tecnica di testa a spalle un target price abbastanza rilevante per questa prima fase cioè un target price che ci porta intorno ai 94 mila dollari circa 95 mila anche un po' più in alto è questa struttura è raggiungibile sicuramente però ragazzi ovviamente non mi piacciono molti testa a spalle sapete che io non sono favorevole alle figure classiche di analisi tecnica perché lasciano un po' il tempo che trovano ormai sono un po' invenzioni di figure geometriche però qui ci sono una serie di connotati anche da un punto di vista ciclico per cui non mi stupirei di assistere a una cosa del genere la questione anche su bitcoin secondo me è orientata ai prossimi giorni cioè la chiusura di questo ciclo mensile di bitcoin che secondo me avverrà a momenti e teoricamente questo significherebbe avere qualche giornata negativa intorno ai 30-33 giorni quindi fino a lunedì prossimo una questione appunto di lateralizzazione e poi chiusura di questo ciclo mensile dovesse fare una cosa del genere intanto avremo la chiusura del ciclo mensile di bitcoin che coinciderebbe anche col disegno della spalla finale di questo testa a spalle e qui poi una ripresa avrebbe secondo me molta resistenza cioè spingerebbe nel tentativo appunto di fare nuovi massimi tra le altre cose più tempo passiamo al di sotto di questo massimo di marzo meglio è come vi ho detto già più volte per una questione ciclica c'è da dire che siamo arrivati proprio agli sgoccioli e quindi anche in questo caso un breakout immediato di questo livello di resistenza metterebbe una serie di dubbi anche a livello ciclico è un pericolo che io avrei preferito non vedere ma non credo che bitcoin ci lascerà tanto tempo al di sotto di questo massimo per evitare appunto il pericolo ciclico di cui magari poi parleremo in un altro video fatto sta che al momento vi ripeto questo grafico è in attesa di una chiusura di un ciclo di natura mensile che tra le altre cose si può anche evidenziare come qui abbia fatto una struttura di natura ternaria perché qui abbiamo per esempio un'analisi di un ciclo settimanale lungo da 10 giorni poi abbiamo un 13 giorni e quindi con molta probabilità sta tentando di fare il finale di questa struttura che probabilmente anche se lo facciamo ricadere in 10 giorni andrà a chiudere proprio nel giugno lunedì 3 giugno del 2024 una cosa del genere poi ovviamente potrebbe anche non essere molto ribassista ma fare solo barra di congestione vi faccio vedere anche le clause come in effetti si evince ancora di più la forma ternaria di questa struttura di brevissimo periodo per quanto riguarda bitcoin attenzione perché la clause di questo mensile coincide con un buy quindi assoluto per il tentativo di fare poi questi nuovi massimi ovviamente parliamo di trading e di atteggiamento da trader vi ricordo che qui è sicuramente iniziato un nuovo trimestrale su bitcoin quindi anche nel caso di bitcoin dopo il primo mensile che tra l'altro si è svolto in maniera greggia di alzista il secondo mensile potrebbe essere quello che ci fa rompere il livello di resistenza e dei massimi storici di bitcoin dovremmo pertanto andare a monitorare questo atteggiamento di bitcoin collegato a questo grafico del cambio ethereum bitcoin per vedere se la forza relativa di ethereum riesce a risalire in maniera definitiva invertendo questo trend che vige dal giugno del 2022 se ci riesce allora c'è un cambio radicale anche su eth altrimenti la data successiva è settembre 2024 da settembre in poi ciò significa che passeremo quindi giugno luglio agosto tre mesi in barra di congestione o addirittura e non so come immaginarlo vi dico francamente addirittura secondo la ciclica di questo grafico si potrebbe verificare una maggiore forza di bitcoin su ethereum ancora per tutti e tre i mesi vi ripeto fatico a immaginare il perché di una cosa del genere perché da un punto di vista tecnico l'avvento degli etf dovrebbe modificare anche la struttura ciclica quindi c'è l'analisi ciclica la valutiamo però ovviamente non siamo così diciamo sordi agli eventi che abbiamo visto in questi in questi ultimi giorni e quindi valutiamo anche la possibilità che la ciclica venga influenzata da questo evento importantissimo degli etf e che qui sia stato troncato un ciclo superiore si definisce così va bene ragazzi allora domani ci sarà probabilmente un aggiornamento per quanto riguarda le quotazioni perché riaprono gli Stati Uniti e qualora ci siano dei cambiamenti andremo a fare appunto dei nuovi aggiornamenti monitorate al momento il ciclo da dieci giorni una settimana che è quello che è iniziato secondo me su questo minimo di bitcoin è il ciclo che chiama un po' di debolezza teoricamente venerdì 24 iniziato siamo al quarto giorno circa dobbiamo andare a chiudere fra tre quattro giorni questa struttura ciclica sarebbe anche interessante vederla chiudere perché ci darebbe come vi dicevo il là per un eventuale buy in questa zona veramente nel tentativo di prendere l'ultimo rally di questa struttura di congestione che poi ci porta al breakout della resistenza valuteremo queste cose ovviamente siamo sul pezzo e per questi giorni seguiremo questo tipo di analisi e questo tipo di logica ragazzi tra le altre cose sto iniziando a studiare una serie di cripto differenti e anche molto piccole sulle quali andare a incentrare dei video dedicati da trader puro perché sapete che io non faccio l'investor alla cieca nell'ecritto perché non mi piace in quanto se il trend non ce lo dice non ci dà la sicurezza si rischia troppo però in questo momento siamo arrivati a giugno l'attesa era per giugno per l'eventuale alt season dobbiamo andare a mio avviso a posizionarci su alcune tipologie di asset e quindi andremo a valutare alcuni tipi di progetti fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa possibilità di andare a dedicare dei video per i prossimi mesi esclusivamente all'ecritto e proprio a quei progetti che potrebbero dare grandi soddisfazioni magari seguendo seguendone alcuni per i prossimi mesi se dovesse in effetti arrivare l'attesison come noi stiamo attendendo da sei mesi nel mese di giugno finalmente ci siamo arrivati e adesso non possiamo tirarci indietro quindi ci proveremo fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto se vi piace non vi piace lasciatemi i pollicioni perché sarà un progetto molto molto difficile da fare perché le cripto sono molto difficili da seguire soprattutto con video spot ragazzi hanno bisogno di video più costanti continui però io ci tengo perché è una cosa che mi ero ripromessa dopo l'ultima alt season avvenuta tanti anni fa ma per evitare anche gravi errori che magari sono stati compiuti da alcuni trader diciamo da alcuni investitori nel settore delle cripto proprio perché magari a dire la verità io non sono stato molto presente nell'analisi delle cripto perché volevo evitare appunto danni e facendo così addirittura probabilmente non sono riuscito ad aiutare tante persone che invece magari potevano essere aiutate quindi mi piacerebbe in questo caso continuare a fare questo tipo di video quindi iniziare a fare questo tipo di video fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti